Tristan, l'ultimo discendente maschio di Stormhold in vita. Sei tu, Tristan? Se lui è il nuovo signore di Stormhold, noi... Io vi incorono, re Tristan, signore di Stormhold. Sì, Tristan! Il mio dono per voi Per voi due Grazie Governarono per 80 anni Ma nessun uomo può vivere in eterno Eccetto colui che possiede il cuore di una stella Ed Ivein aveva ceduto il proprio a Tristan completamente Quando i loro figli e nipoti furono abbastanza grandi Fu il momento per accendere la candela di Babilonia E ancora oggi essi vivono felici e contenti